cari amici come voi potete vedere le nostre ambientazioni sono sempre molto appropriate qui abbiamo a che fare con un girotondo che è estremamente indicativo ma siccome vogliamo entrare proprio su questo argomento vi facciamo vedere una rivista aspetta 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 vai, vedi? vi facciamo vedere una rivista e vi consigliamo, è l'ultimo numero della rivista mistero allora, i misteri della Bibbia, questo è un testo di una intervista al noto studioso di testi biblici e della Bibbia Mauro Biglino allora io colgo l'occasione, noi ne abbiamo parlato più di una volta, ma colgo l'occasione per un paio di considerazioni proprio che sono quelle fondamentali perché Biglino in questa intervista sottolinea proprio questo aspetto fondamentale dove dice la Bibbia è tutto è quello che dicono, un testo religioso che vogliono far credere, allora che cosa dice Biglino? dice una cosa veramente importante attenzione perché noi poi dobbiamo arrivare qui a questo concetto, allora che cosa ci vanno raccontando, ecco, ci vanno raccontando, panzane, allora ci vanno raccontando